Siamo con Angelo Mecozzi dell'Its, una squadra che già alla prima partita andava subito ai calci di rigore rischiando di vincerla, poi nuovamente in gara 3 contro la Tacica. La prima partita è stata una partita equilibrata, però diciamo che potevamo anche chiudere la prima in modo che così non arriviamo ai calci di rigore. Poi si sa che i calci di rigore sono sempre una cosa che può andare bene e può andare male sia per l'una che per l'altra squadra. È andata male per noi purtroppo. Poi l'altra partita abbiamo tenuto quasi 20 minuti buoni, abbiamo tenuto il 0-0, poi abbiamo preso un gol sul calcio di rigore che visto dal Vare sembrava netto, perciò non commentiamo quello. Ma il secondo gol è stato un contropiede che purtroppo cercavamo di riprendere un po' la situazione della partita, non ci siamo riusciti e abbiamo preso il secondo gol. La partita con il Dacia è stata una bella partita, dura perché loro giocano molto duro, il calcio è questo. Siamo riusciti a vincere almeno questo sui calci di rigore, una volta loro, una volta noi è andata bene così. L'importante è che poi ci siano divertiti i ragazzi e poi c'è stata molta, molta, molta lealtà in campo e questo è importante per questi tornei perché poi la stracchezza porta a coprire un po' la mente per ragionare e perciò è meglio così. Ringraziamo Angelo Mecozzi per l'intervento post-torneo. Grazie a voi, grazie e buonasera.